salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo cuscinetto cuore utilizzando la tecnica c2c che abbiamo visto nel video precedente nel nostro primi passi è un progetto che io ho realizzato per san valentino ma si può utilizzare anche per tante altre occasioni quali un regalo magari alla vostra mamma per la festa della mamma oppure un regalo particolare speciale ad un'amica o a una sorella prima di presentarvi materiale e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina facebook e la mia pagina instagram passione uncinetto e lì cercherò con delle storie dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo insieme dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò lana bianca lana rossa lurex guardate lavorerò con uncinetto numero 4 poi avrò bisogno uno schema che ho riprodotto da internet quindi da google e un paio di forbici prima di iniziare la lavorazione io dal gomitolo di 100 grammi di lana che ho a disposizione bianco ne ho fatto un piccolo gomitolino perché perché qui noi iniziamo a lavorare da quest'angolo continueremo a lavorare sempre col bianco e quindi io lavorerò col gomitolo principale dopodiché quando arriviamo ad inserire il rosso guardate ci sono questi due quadretti bianchi poi c'è il rosso e come vi ho detto nel primi passi non si porta il filo dietro come in altri tipi di lavorazione quindi qui ci dobbiamo riattaccare con il bianco questo gomitolino mi servirà questo per questa parte qui ripartiremo col bianco e poi ci inseriremo col rosso il rosso rimane in questo caso tutto un unico gomitolo per ora lo lavoriamo insieme nel caso del mio rosso quindi di questa lana è abbastanza fine siccome volevo ottenere il cuore diciamo più più grossetto come come lavorazione ho pensato di metterlo in due quindi questo è una lana lurex che è leggermente più fine rispetto alla lana bianca che sto utilizzando quindi io in questo caso lo lavoro in due nulla togliendo che voi in base alla lana che utilizzate la potete lavorare tranquillamente con un unico filo quindi iniziamo la lavorazione mettiamo da parte rosso prendiamo il gomitolo grande e iniziamo la lavorazione con questo gomitolo e iniziamo da quest'angolo guardate da qui quindi facciamo un cappietto che non conteremo quindi lo stringiamo e iniziamo con le sei catenelle 3 4 5 e 6 filo sull'uncinetto entriamo nella quarta catenella 1 2 3 4 e lavoriamo una maglia alta seguita da un'altra maglia alta seguita dall'ultima maglia alta e già abbiamo creato il nostro primo quadretto che è questo qui iniziale ora guardate questo schema è provvisto di frecce ora dobbiamo iniziare questa parte quindi voltiamo il lavoro e facciamo sempre sei catenelle perché dobbiamo fare gli aumenti 4 5 e 6 filo sull'uncinetto entriamo nella quarta catenella e lavoriamo la prima maglia alta nella catenella successiva lavoriamo la seconda e nella seguente lavoriamo la terza ci chiudiamo con maglia bassissima guardate la lavorazione così qui dove ci sono le tre catenelle iniziali così ci realziamo con 3 catenelle e in questo spazio lavoriamo 3 maglie alte 2 e 3 e abbiamo formato questi due quadretti quindi già abbiamo formato un pezzetto di angolo ora continuiamo a lavorare queste strisce quindi 3 quadretti nel giro successivo 4 quadretti nel giro seguente sempre con la tecnica che vi ho fatto vedere vi ho spiegato nel primi passi all'uncinetto punto c2c ora proseguiamo insieme fino ad arrivare all'inserimento del rosso voltiamo il lavoro facciamo sempre le 6 catenelle 4 5 e 6 entriamo nella quarta maglia alta maglia alta in quella successiva e maglia alta in quella seguente ci chiudiamo qui dove ci sono le 3 catenelle con maglia bassissima ci realziamo con 3 catenelle e lavoriamo sempre nello stesso spazio 3 maglie alte 1 2 e 3 qui ci chiudiamo sempre qui dove ci sono le 3 catenelle qui ci chiudiamo sempre qui dove ci sono le 3 catenelle con maglia bassissima ci realziamo anche qui con 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte 1 2 e 3 e abbiamo creato questo 1 2 3 3 quadretti 1 2 3 continuiamo voltando il lavoro e lavorando sempre le 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 entriamo nella quarta lavoriamo la prima maglia alta la seconda e la terza ci chiudiamo qui sempre nello spazio delle 3 catenelle con maglia bassissima ci realziamo con 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte 1 2 e 3 di nuovo qui dove ci sono le 3 catenelle entriamo ci chiudiamo con maglia bassissima 3 catenelle e 3 maglie alte 1 2 e 3 la stessa cosa facciamo si chiudiamo con la quarta fila questo 2 e poi ci chiamiamo con maglia bassissima 3 catenelle e 3 maglie alte 1 2 3 e abbiamo creato anche la nostra quarta fila con 1 2 3 4 quadrettini guardate mettendolo così stiamo creando il nostro angolo e dobbiamo continuare con questa lavorazione col bianco fino ad arrivare precisamente qui che in questo caso tutto il bianco comprende il nono giro così questo è tutto il bianco quindi da qui a qui dopodiché questo ce lo lavoriamo ora tutto sempre con la stessa lavorazione che abbiamo fatto e ci rivediamo a questo punto al decimo giro per inserire lavorare inserendo il rosso in questo caso comunque il colore che abbiamo scelto di inserire per il disegno arrivati a questo punto quindi al nono giro sono arrivata qua precisamente nell'ultima striscia solo bianca basta contare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quindi ci ritroviamo precisamente a questo punto dobbiamo fare la striscia numero 10 dobbiamo fare due quadretti bianchi e dopo 1 2 3 4 5 6 quadretti rossi poi dobbiamo riprendere il bianco e farne due quindi in tutto ne dobbiamo fare 10 10 quadretti quindi iniziamo con i due bianchi voltiamo il lavoro e iniziamo sempre facendo l'aumento con le 6 catenelle iniziali quindi 2 3 4 5 6 entriamo nella quarta facciamo la maglia alta nell'altra catenella la maglia alta è una maglia alta nell'ultima catenella che c'è rimasta maglia bassissima nel punto successivo 3 catenelle e 3 maglie alte e abbiamo creato due quadretti ora prima di chiudere l'ultima maglia alta dopo i due quadretti dobbiamo inserire il rosso quindi prendiamo in questo caso il nostro rosso lo mettiamo in corrispondenza guardate questo lo lasciamo questo filo e lo inseriamo chiudiamo con il rosso andiamo qui dove c'è la ma la le catenelle e ci chiudiamo con maglia bassissima così tiriamo un pochino la codina del bianco che ora lo lasceremo in sospeso e stringiamo il punto ok e continuiamo la nostra lavorazione con il rosso ok qui lasciamo così il bianco è qui e continuiamo con rosso ok dopo esserci un pochino sistemati come fili prendiamo le due codine in questo caso perché lo sto facendo doppio se non la codina del rosso lo mettiamo allineato con la lavorazione facciamo le tre catenelle e ce lo lavoriamo nelle nello spazietto quindi lavoriamo le tre maglie alte 1 2 bianco è rimasto qui e 3 così ora ci chiudiamo nello spazietto successivo con maglia bassissima prendiamo il filo e ce lo portiamo qui 3 catenelle 3 maglie alte 1 2 e 3 e già abbiamo fatto due quadretti ci chiudiamo sempre nelle tre catenelle con maglia bassissima di nuovo 3 catenelle 3 catenelle e 3 maglie alte 1 2 e 3 ci chiudiamo qui nello spazietto con maglia bassissima abbiamo già fatto 3 quadrettini ne dobbiamo fare in tutto 6 quindi ora ce li lavoriamo qui abbiamo fatto il quarto entriamo ci chiudiamo 3 catenelle 1 2 3 4 5 e ora qui dobbiamo fare l'ultimo quadrettino 1 2 prima di chiudere l'ultimo prendiamo l'altro gomitolino che io ho recuperato dal gomitolo principale se voi poi avete dei gomitolini da 50 grammi è ancora meglio quindi utilizzate i vari gomitoli e ci chiudiamo con il bianco andiamo direttamente qui nella solina facciamo la maglia bassissima le 3 catenelle e ci lavoriamo anche la codina del bianco così lo inseriamo direttamente con tutta la codina come vedete il rosso è rimasto bloccato qua questo bianco è rimasto bloccato qua bianco rosso e qui ci siamo inseriti con l'altro bianco andiamo nell'ultimo punto e facciamo l'ultimo quadretto sempre facendo le 3 catenelle e le 3 maglie alte 1 2 e 3 ora dobbiamo proseguire quindi riprendiamo lo schema siamo al decimo alla decima riga dobbiamo fare l'undicesima quindi 1 2 3 quadretti bianchi 1 2 3 4 5 6 quadretti rossi e 2 bianchi quindi qui dobbiamo fare sempre l'aumento dobbiamo voltare il lavoro l'unica difficoltà di questa tecnica è il voltare il lavoro e quindi è per i fili stessi però lasciando perdere quello di centro dobbiamo spostare solo quelli laterale quindi voltiamo il lavoro e posizioniamo il gomitolo grande da questa parte e il gomitolo piccolo da quest'altra così perfetto e cominciamo a lavorarci le nostre 6 catenelle riprendiamo la lavorazione da qui ci lavoriamo le 6 catenelle 3 4 5 e 6 entriamo nella quarta e facciamo comunque il primo quadretto 1 2 e 3 ora dobbiamo fare il secondo quindi entriamo direttamente nello spazio facciamo le 3 catenelle e il secondo quadretto 3 maglie alte 2 e 3 di nuovo dobbiamo farne 3 entriamo nello spazio e facciamo il terzo quadretto 1 1 2 prima di chiudere completamente il terzo dobbiamo unirci sempre con rosso quindi prendiamo il rosso che abbiamo qui e ce lo portiamo nella chiusura quindi tiriamo un pochino il bianco guardate lo teniamo più tirante e ci chiudiamo direttamente con il rosso entriamo qui nella solina e facciamo una maglia bassissima così 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 e qui facciamo i quadretti rossi quindi 3 catenelle 3 maglie alte 2 e abbiamo fatto il primo quadretto abbiamo detto che ne dobbiamo fare 6 quindi entriamo nel prossimo maglia bassissima 3 catenelle e 3 maglie alte 1 2 e 3 abbiamo fatto il secondo quadretto ci chiudiamo e ora facciamo il terzo 1 2 e 3 ci chiudiamo e lavoriamo il quarto quindi sempre 3 catenelle entriamo 1 2 2 e 3 ci chiudiamo e facciamo il quinto quindi sempre 3 catenelle entriamo e e ci lavoriamo le 3 maglie alte 2 e 3 ci chiudiamo e facciamo l'ultimo quadretto quindi 3 catenelle 1 2 e il terzo lo lasciamo in sospeso e ci chiudiamo con il bianco ci chiudiamo direttamente col bianco entriamo nel foro successivo e facciamo la maglia bassissima 3 catenelle e facciamo gli ultimi due quadretti quindi mi raccomando ora dobbiamo seguire le freccette il verso del della lavorazione se avete uno schema dove non ci sono frecce potete segnarle con una penna una matita e quindi rendervi conto di come dovete lavorare per la realizzazione del disegno è molto importante infatti noi abbiamo fatto guardate l'inserimento del colore l'abbiamo fatto da questa parte questo giro che abbiamo appena fatto la freccetta siamo partiti da qua per sopra quindi e siamo saliti ora nel giro successivo dobbiamo scendere quindi stiamo facendo la dodicesima riga noi a questo punto ci ritroviamo dalla parte di sopra ora voltiamo il lavoro lasciando fermo questo centrale facendo passare questo laterale sotto il rosso e quello che abbiamo noi che stiamo lavorando al di sopra così non si rischia di ingarbugliare i colori perfetto e continuiamo la lavorazione a scendere quindi da qui a scendere iniziamo sempre con le sei catenelle 3 4 5 6 e facciamo il primo quadretto perché dobbiamo sempre fare gli aumenti quindi il primo quadretto l'abbiamo fatto ricordiamo che siamo arrivati alla dodicesima qui siamo arrivati a questo quadretto quindi dobbiamo lavorare uno e due abbiamo lavorato il primo ci realziamo con le tre catenelle e le tre maglie alte e abbiamo lavorato e il secondo ora qui guardate abbiamo lo stacco dobbiamo lavorare qui in questo punto con il rosso quindi cosa facciamo in questo caso il cambio colore lo facciamo questo lo chiudiamo lo facciamo direttamente qui entriamo prendiamo il rosso che qui a fianco e ci chiudiamo direttamente con rosso tiriamo la codina per stringere facciamo le tre catenelle e le tre maglie alte così e abbiamo fatto il primo quadrato rosso ci ritroviamo a questo punto ne dobbiamo fare in tutto 1 2 3 4 5 6 7 quindi ci lavoriamo 7 quadrati rossi e ci rivediamo alla fine perché qui lavoriamo colore su colore lavorati i sette quadretti 1 2 3 4 5 6 7 e vi ricordo che siamo arrivati qui quindi 1 2 3 4 5 6 7 dobbiamo lavorare 1 2 3 quadretti bianchi quindi partiamo da qui che è la dodicesima 2 quadretti bianchi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 quindi ci chiudiamo col bianco lasciamo in sospeso il rosso un attimino ok facciamo passare il bianco ecco ecco ho avuto un po di problemi con i fili del rosso che ora vado a tirare ok entriamo direttamente nello spazio e ci lavoriamo i tre quadrati bianchi quindi il primo lo stiamo lavorando entriamo e lavoriamo il secondo entriamo e lavoriamo l'ultimo 1 2 e 3 e abbiamo terminato anche questa fila ora ci ritroviamo da questa parte guardate siamo qui 12 dobbiamo fare la tredicesima riga quindi andiamo per sopra facciamo 1 2 3 4 bianchi contando quindi siamo qua 1 2 3 4 poi 1 2 3 4 5 6 7 rossi e sempre due bianchi quindi cominciamo col fare i quattro bianchi cosa facciamo? dobbiamo voltare il lavoro lasciamo invariate il rosso che è centrale facciamo passare questo laterale sotto il rosso e questo che stiamo lavorando di sopra ok così non ci ingarbugliamo i fili che è importante perché soprattutto se fate un disegno più complesso con più colori basta tenersi a queste piccole regole di diciamo passare i fili non non vi ritrovate male comunque allora lavoriamo 6 catenelle e lavoriamo il primo quadrato quindi abbiamo detto che da questa parte ne dobbiamo lavorare 4 il primo l'abbiamo lavorato lavoriamo il secondo se poi vi accorgete questo il gomitolino che abbiamo inserito nella parte sotto del nostro schema quindi già da questo vi accorgete di dove siete comunque arrivati in sostanza un trucchetto può essere anche segnare il gomitolo e quindi comunque rendersi conto se si è dalla parte di sotto alla parte di sopra se si è perso il conto abbiamo fatto il secondo e ora facciamo il terzo e ora lavoriamo il quarto ed ultimo quadretto bianco di questa fila o almeno di questa parte qui dobbiamo fare l'inserimento con rosso qui abbiamo il rosso lo prendiamo lasciamo il rosso lo inseriamo direttamente nella chiusura e chiudiamo direttamente tiriamo la codina del bianco così uniamo i lavori di più e cominciamo a lavorarci i quadretti rossi qui abbiamo detto che dobbiamo lavorare 1 2 3 4 5 6 7 quadretti rossi quindi ce li lavoriamo colore su colore ci rivediamo alla fine della lavorazione del rosso arrivati alla fine quindi i sette quadretti lavorati prendiamo il bianco e ci chiudiamo direttamente col bianco perché dobbiamo lavorare due quadretti bianchi quindi entriamo direttamente tiriamo le codine ecco del rosso così e qui lavoriamo i nostri due quadretti quindi uno entriamo nell'ultimo e lavoriamo il secondo 2 e 3 e abbiamo terminato anche questo giro siamo arrivati a questo punto ora da qui dobbiamo ripartire a scendere quindi abbiamo 1 2 bianchi 1 2 3 4 5 6 7 8 rossi quindi giriamo il lavoro questo da questa parte lo facciamo passare di sotto a rosso così quindi invece quello che mi serve dove sono arrivata di sopra giriamo il lavoro ora dobbiamo fare come vedete altre due righe sole di aumenti quindi siamo arrivati qui ci lavoriamo i nostri due quadretti bianchi facendo sempre le 6 catenelle iniziali primo quadretto e secondo quadretto che lavoriamo pieno perché dobbiamo fare la lavorazione con rosso guardate abbiamo un quadretto quando abbiamo questo ci ritroviamo così dobbiamo fare il cambio colore nell'unione quindi prendiamo il rosso e lo facciamo passare nelle asoline così ci lavoriamo la parte rossa quindi 8 in questo caso 8 quadrettini rossi e ci rivediamo sempre alla fine della lavorazione rossa arrivati alla fine della lavorazione rossa ci chiudiamo col bianco entriamo direttamente nella solina e facciamo quattro quadretti bianchi uno facciamo il secondo facciamo il terzo e infine faremo l'ultimo 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 abbiamo fatto il quattordicesimo giro uno due tre quattro cinque sei sette rossi e tre bianchi uno due e tre quindi cinque bianchi sette rossi e tre bianchi voltiamo la lavorazione questo da questa parte lo facciamo passare sotto quello rosso questo che sto lavorando di sopra facciamo sempre le sei catenelle e in questo caso le faremo per l'ultima volta perché ora è l'ultimo giro di aumenti dal prossimo giro inizieremo con le diminuzioni primo quadretto fatto primo quadretto fatto un attimino ecco secondo quadretto fatto secondo quadretto fatto ora lavoriamo il quarto e il quinto e ora lavoriamo l'ultimo facciamo facciamo l'ultima maglia alta non la chiudiamo del tutto e la chiudiamo con rosso che abbiamo qua direttamente chiaramente tiriamo la codina del bianco stringiamo ci chiudiamo qui nel rosso con maglia bassissima e cominciamo e cominciamo la lavorazione con rosso con rosso abbiamo detto che ne dobbiamo fare in tutto 3 4 5 6 7 quindi lavoriamoci 7 quadrettini rossi e ci rivediamo con l'inserimento del bianco abbiamo terminato abbiamo terminato la lavorazione dei nostri sette quadretti qui facciamo l'ultima maglia alta che in questo caso chiuderemo perché avendo una maglia guardate un quadretto rosso il cambio colore lo facciamo direttamente con la maglia bassissima che dobbiamo fare nelle nostre 3 catenelle quindi lo facciamo direttamente qui ci lavoriamo le 3 catenelle e nel quadretto ci lavoriamo il bianco quindi dobbiamo fare gli ultimi 3 quadretti bianchi e abbiamo terminato metà della nostra lavorazione siamo arrivati alla diagonale centrale 2 e 3 siamo arrivati a questo punto qui quindi precisamente al centro ora dal prossimo giro dobbiamo iniziare le diminuzioni come vedete qui nel sedicesimo dobbiamo andare a scendere dobbiamo fare i due quadretti bianchi e poi con il rosso quindi giriamo il lavoro come vi ho detto questo da questa parte lo facciamo passare di sotto al rosso e quello che stiamo appena lavorando di sopra voltiamo e iniziamo con le diminuzioni facciamo una catenella entriamo nel in questo spazio e facciamo la prima maglia bassissima la seconda maglia bassissima e nello spazio la terza maglia bassissima tre catenelle e facciamo il primo quadretto bianco di questi quadretti ne dobbiamo fare due quindi entriamo nel secondo e facciamo il secondo così l'ho chiuso perché abbiamo qui il quadretto bianco che non dobbiamo lavorare quindi il cambio colore lo facciamo direttamente nella solina con la maglia bassissima per inserire il rosso quindi prendiamo il rosso e lo facciamo passare in tutte e due le asoline stringiamo il bianco e da qui iniziamo la lavorazione dei quadrati rossi ora di questi quadrati ne dobbiamo lavorare prendiamo lo schema siamo a questo punto quindi sedicesimo abbiamo fatto i due bianchi ora dobbiamo fare 1 2 3 4 5 6 7 8 quadrati rossi 1 2 3 4 bianchi quindi 8 rossi 4 bianchi ci lavoriamo gli 8 quadrati rossi e ci rivediamo con l'inserimento del bianco arrivati qui alla fine del rosso prendo il bianco mi chiudo direttamente col bianco entro nello spazio maglia bassissima e mi lavoro i quadretti bianchi quindi il primo il secondo ora mi lavoro il terzo perché in tutto ne devo fare 4 e mi lavoro l'ultimo l'ultimo lavorato l'ultimo quadretto faccio una catenella e mi chiudo direttamente con maglia bassissima nell'archetto qui nell'ultimo archetto siamo arrivati a questo punto dello schema ora ora dobbiamo continuare seguendo la freccetta facendo 1 2 3 4 bianchi poi quindi abbiamo detto 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 rossi e 2 bianchi quindi voltiamo il lavoro e ricominciamo sempre con le diminuzioni ricomincio sempre con una catenella entro direttamente salto il primo punto alto entro direttamente nel secondo punto alto e faccio una maglia bassissima in quello seguente un'altra maglia bassissima nell'archetto una maglia bassissima 3 catenelle e mi comincio a lavorare il primo quadrato vi ricordo che noi siamo qua nella parte di sotto perché bisogna fare andate ritorno quindi in questo caso ne devo lavorare 1 2 3 4 quindi mi lavoro i miei 4 quadri quadrati quindi abbiamo fatto 1 2 3 e 4 1 2 e 3 prima di chiuderci nell'ultimo punto inseriamo il rosso stringiamo stringiamo la godina del bianco e iniziamo a lavorare i nostri quadrati rossi li lavoriamo e ci rivediamo con l'inserimento del bianco lavorati i sette quadrettini come vedete abbiamo il quadretto rosso quindi il cambio lo facciamo qui con la maglia bassissima quindi chiudiamo col bianco facciamo le 3 catenelle facciamo le 3 catenelle e ci lavoriamo il primo quadretto di questi quadretti ne dobbiamo fare in tutto 2 perché siamo qui quindi abbiamo fatto il primo e facciamo il secondo ci chiudiamo direttamente nell'ultima e abbiamo terminato anche questo giro ora voltiamo il lavoro quindi al solito questo lo facciamo passare di sotto e questo di sopra e ora dobbiamo proseguire sempre da schema quindi facciamo una catenella ci inseriamo direttamente nella seconda maglia alta facendo una maglia bassissima maglia bassissima nella maglia successiva e nell'archetto sempre maglia bassissima e qui facciamo il primo quadretto bianco uno due e tre qui siamo a questo punto guardate diciottesimo abbiamo due quadretti bianchi e poi abbiamo i quadretti rossi quindi in tutto lo possiamo fare tranquillamente da soli ci rivediamo alla fine due quadretti bianchi 1 2 3 4 5 6 7 quadretti rossi 1 2 3 quadretti bianchi qui il primo l'ho lavorato mi chiudo qui e lavoro il secondo qui prima di chiudermi faccio il cambio colore prendo il rosso e lo inserisco direttamente a chiusura e stringo e stringo la codina del bianco ecco qui ok mi lavoro i quadretti rossi e bianchi e ci rivediamo alla fine ho fatto gli ultimi tre quadretti e mi sono chiusa mi sono accorta che poco fa nella prima diminuzione nel giro di chiusura vi ho detto di di mettere una catenella non è esatto chiudete direttamente con maglia bassissima si ricomincia con la catenella e si deve agganciare nella seconda maglia alta terza con maglia sempre bassissima quindi si devono fare tre maglie bassissime perché mi sono accorta durante la registrazione che erroneamente ho detto una catenella e chiudere con maglia bassissima volevo precisare da qui in poi possiamo anche continuarlo da soli io vi volevo solo dire chissà non reperite questo schema però si trova facilmente su internet vi volevo dire i passaggi che ora avremo da fare abbiamo lavorato il diciotto la diciottesima la diciannovesima iniziamo da qui e facciamo uno, due, tre bianchi uno, due, tre quattro rossi uno, due, tre quattro bianchi nella ventesima scendendo dobbiamo lavorare uno, due, tre bianchi uno, due, tre quattro e cinque rossi e due bianchi due bianchi nella ventunesima uno, due, tre quattro rossi uno, due, tre bianchi ventiduesima scendere uno, due bianchi uno, due, tre quattro rossi uno, due bianchi nella ventitresima uno, due bianchi uno, due, tre rossi e due bianchi ventiquattresima uno, due bianchi uno due rossi e due bianchi venticinquesima due tutti bianchi 1 2 3 4 e 5 bianchi e poi di conseguenza quattro bianchi 3 2 1 e abbiamo terminato il nostro lavoro quindi ce lo lavoriamo e ci rivediamo alla fine della lavorazione nella riga successiva mi sono accorta che c'è da attenzionare questa parte la diciannovesima guardate questo è il numero 19 1 2 3 bianchi e poi abbiamo 123 4 rossi e poi c'è l'inserimento del bianco e ne dobbiamo fare quattro guardate ci ritroviamo così io ho fatto i tre bianchi 1 2 3 4 rossi però voi il bianco ce l'avete qui quindi in questo caso la continuazione della lavorazione bianca la dobbiamo riprendere da qui tagliamo la lana e la inseriamo qui quindi rifacciamo insieme l'ultimo punto e lo lavoriamo a metà così prendiamo la lana bianca e la inseriamo scusate sono andata fuori inquadratura la riportiamo qui sempre nel nella solina stringiamo e questa ce la lavoriamo ora col primo punto che facciamo quindi 3 catenelle e il primo quadrato entriamo nel secondo punto e facciamo il secondo quadratino entriamo nel punto successivo facciamo il terzo quindi stiamo lavorando sul sulla lana rossa in questo caso però dovendo inserire qui il bianco abbiamo dovuto tagliare il filo qui c'è il filo tagliato che ora noi ci andremo a lavorare quindi lo diciamo sigilliamo prendiamo questo filo lo facciamo passare nella maglia bassa del punto così guardate quindi ce lo avviciniamo qui al punto di sigillarlo quindi non c'è bisogno poi di prendere lago e nasconderlo riprendiamo la lavorazione abbiamo detto che qui dovevamo fare tre bianchi 3 bianchi poi dovevamo fare uno due tre quattro 1 2 3 4 rossi 1 2 3 4 bianchi ok abbiamo fatto 1 2 3 bianchi e ci lavoriamo il quarto ed ultimo quadratino 2 e 3 abbiamo sigillato così anche il il filo che abbiamo tagliato ci chiudiamo con maglia bassissima e questo giro l'abbiamo terminato ora possiamo continuare la nostra lavorazione così come vi avevo detto perché il bianco continuiamo sempre con questa lavorazione bianca e il rosso terminiamo poi la lavorazione con il rosso quindi continuiamo con lo schema e ci rivediamo alla fine della lavorazione ho continuato a lavorare il lavoro quindi il mio schema arrivati a questo punto guardate dopo che ho finito di fare gli ultimi due quadretti ora devo lavorare solo il bianco quindi che cosa faccio prima ancora che parto con la lavorazione taglio i due fili rossi che in questo caso io l'ho lavorato con doppio filo e taglio quello bianco quindi elimino la lana lascio la lana che sto lavorando che bianca sempre così e mi lavoro e nello stesso tempo cerco di fissarmi i fili del rosso e dell'altro bianco quindi ho fatto il primo qui stringiamo facciamo passare il rosso guardate in alcune catenelle maglie così me lo lavoro nell'archetto da lavorare così e la stessa cosa facciamo col bianco lo facciamo passare in nelle due maglie ok e me lo lavoro in questo archetto quindi proseguo la mia lavorazione e fino ad arrivare alla fine era giusto che vi dicessi come si proseguiva arrivati a questo punto quindi abbiamo visto questo passaggio che era abbastanza importante e quest'altro passaggio della fine e ci rivediamo a cuore terminato terminata la lavorazione guardate questo è il nostro quadrato il nostro cuore perfettamente uguale allo schema siamo partiti da qui ancora c'è la codina abbiamo lavorato il tutto e siamo arrivati dall'altra parte quindi da angolo ad angolo ora per il nostro progetto dobbiamo preparare un altro quadrato uguale monocolore quindi io in questo caso l'ho preparato bianco però voi lo potete fare anche rosso e ci dobbiamo tenere sempre alle stesse misure perché deve essere uguale 15 quindi dobbiamo fare 15 righe quindi in diagonale quando arriviamo alla quindicesima cominciamo dalla sedicesima a diminuire e creiamo il nostro pannello io ce l'ho qua l'ho già fatto sono perfettamente uguali e ora possiamo procedere alla cucitura e quindi all'imbottitura dopo averli sistemati uno sull'altro prendiamo la parte del cuore dalla nostra parte li mettiamo in corrispondenza e come vedete qui abbiamo le maglie alte e qui le maglie alte qui abbiamo le maglie alte invece in parallelo guardate ora noi dobbiamo lavorare questi gruppetti quindi entriamo nel nella prima maglia alta da una parte dall'altra prendiamo la lana lasciamo un po di codina così poi ce la lavoriamo e la fissiamo prendiamo il filo lo passiamo all'interno una catenella rientriamo nello stesso punto e ripassiamo il filo facendo una maglia bassa entriamo nel punto successivo da una parte dall'altra e così ci lavoriamo la codina e facciamo la seconda maglia bassa entriamo nell'ultima maglia alta di questo gruppetto e facciamo una maglia bassa quindi tre maglie basse ora c'è il gruppettino da una parte dall'altra guardate qua delle maglie ecco delle maglie alte così entriamo prendendo guardate la maglia alta da una parte e dall'altra entriamo all'interno e facciamo uno due e tre maglie basse ora ci sono le maglie alte vi potete aiutare anche con delle degli spillini per tenere fermo il lavoro quindi metterlo in posizione qui lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante in questo invece in questo gruppetto prendiamo maglia alta e maglia alta da una parte dall'altra e lavoriamo all'interno tre maglie basse guardate dove abbiamo lavorato le tre maglie basse nell'archetto si è creato appunto una specie di archetto quindi sta dando comunque una forma anche alla parte laterale quindi continuiamo così quando arriviamo qui nell'angolo abbiamo le nostre sempre le nostre maglie alte quindi ci lavoriamo una maglia alta per ogni maglia e continuiamo l'unica differenza per non far tirare l'angolo che qui in corrispondenza dopo poco prima del primo quadretto dell'angolo qui lavoreremo una maglia bassa poi una maglia bassa per ogni maglia un'altra maglia bassa la lavoreremo qua quindi faremo due maglie basse per ogni angolo da una parte e dall'altra dopodiché lavoreremo per come abbiamo fatto fino ad arrivare qui quindi dobbiamo lasciare una parte aperta ci lavoriamo tre righe cuciti i tre lati guardate abbiamo lasciato aperto questa questo lato allora io in questo caso ho questa imbottitura che è più compatta rispetto all'altra che utilizzo per gli amigurumi quindi la inserisco qui dentro direttamente se voi avete invece l'altra potete eventualmente foderarla con un stoffa e inserire direttamente con la stoffa poi giustamente si deve sistemare per creare il cuscinetto intanto noi dobbiamo continuare la cucitura dopo averlo imbottito quindi mettiamo l'imbottitura che vogliamo per il cuscinetto quindi ne inserite all'incirca quanto quanto ne ritenete opportuna e continuate la cucitura facendo sempre gli stessi punti fino ad arrivare qui alla fine terminata la cucitura ci uniamo a quella iniziale con maglia bassissima facciamo una catenella e possiamo tagliare il filo lo stringiamo e dopo facciamo un nodino col filo iniziale facciamo un doppio nodo e poi nasconderemo i fili o con un ago o con l'uncinetto stesso qui abbiamo il nostro cuscinetto imbottito guardate che carino e carina anche questa rifinitura da sola io ora farò un giro con il rosso per richiamare comunque rosso del cuore quindi se voi volete potete anche lasciare questa rifinitura con il punto basso ora prendiamo il rosso comunque non so se notate che il cuore realizzato con la lana lurex è brillante rispetto alla lana e quindi spicca ancora di più molto molto carina come idea di utilizzare una lana comunque particolare per fare il cuore prendiamo la lana rossa e la lavoreremo sempre doppia quindi mettiamo sempre in due la nostra lana partiremo sempre da qui dove abbiamo chiuso la nostra lavorazione prendiamo l'uncinetto ed entriamo nel primo punto utile che abbiamo facciamo una catenella entriamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia bassissima una catenella nel punto seguente maglia bassissima una catenella maglia bassissima nel punto seguente e arrivati qui all'angolo non dobbiamo fare altro che continuare quindi non dobbiamo aggiungere nessun punto a fare sempre catenella e maglia bassissima quindi dobbiamo proseguire così per tutto il contorno compreso gli angoli quindi ci lavoriamo tutto il contorno e ci rivediamo alla fine arrivati qui alla fine facciamo la catenella e ci chiudiamo nel primo punto con maglia bassissima una catenella e possiamo tagliare il filo questo poi lo nasconderemo fra le maglia magari aiutandoci con un ago ok e abbiamo terminato il nostro cuscinetto guardate la rifinitura è questa come vedete anche qui fa delle piccole onde che sono carine a vedersi così e abbiamo terminato il nostro cuscino non so se lo riuscite a vedere in tutte le sue parti l'ho fatto bello morbido quindi abbastanza pieno e ora vi do le misure del cuscinetto e così se lo volete riprodurre con questo schema sapete all'incirca quanto vi viene grande il nostro cuscinetto misura 25 cm quindi se 25 x 25 perché quadrato il nostro progetto con la tecnica c2c è terminato spero che vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook o instagram e passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguiti Grazie a tutti